Nessun cenno nella riunione di maggioranza sul duro attacco politico sferrato dal Partito Democratico di Francavilla all'indirizzo del sindaco Antonello Denuzzo, colpevole di non rispettare gli accordi politici che prevedeva l'assegnazione delle deleghe di galla e ambito sociale al Partito Democratico. È stata una riunione alquanto serena è stato il commento di diversi partecipanti al Vertice. Nessun cenno alle parole non certo al miele preferite nel comunicato diramato dallo Stato Maggiore Locale del PD. Presenti tutti i capigruppo della coalizione di centrosinistra e di consiglieri comunali, oltre allo stesso primo cittadino. Si è trattato di un Vertice già in programma molto prima della bufera scatenata dal PD. Su questioni attinenti litisi fermi circa l'individuazione di una sede provvisoria per dare corso ai lavori di consolidamento dello stabile, dell'industriale e da parte della provincia. All'ordine del giorno anche la questione del personale riguardo la necessità di avere a disposizione dirigenti a tempo pieno e non più part-time. Nessuna verifica di maggioranza dunque. Il Partito Democratico si è astenuto lunedì sera nel portare sul tavolo le accuse mosse al sindaco circa la mancata condivisione sulle cose da fare. Alessandra Latarta, la capogruppo del PD, prima della riunione di lunedì scorso, aveva dichiarato che non vi è alcuna volontà nel togliere la fiducia al sindaco Denuzzo. Sul caso politico è intervenuta la coalizione La città di tutti, che già dai parchi della campagna elettorale aveva stigmatizzato il profilo di grande inaffidabilità e srealtà politica del riconfermato sindaco. Al momento nessun terremoto politico in vista. I sette consiglieri e i due assessori del PD sono al loro posto.